La mia esperienza di allievo del centro sperimentale comincia nel 1988, io mi sono iscritto al biennio 1988-90 che è stato anche il primo biennio in cui ha insegnato Giuseppe Rotunno insieme al suo operatore di macchina Giovanni Fiore Coltellacci. Avere questo cinematografero italiano e internazionale ad insegnarci per noi è stato veramente un sogno, anzi voglio ricordarlo perché è scomparso quest'anno a 97 anni, è stato veramente una figura fondamentale con il suo insegnamento. Appena finito il centro sperimentale sono stato molto fortunato a poter entrare nella troupe di Vittorio Storaro per il film Piccolo Buddha di Bernardo Bertolucci. Ho cominciato da aiuto operatore alla seconda macchina, poi aiuto operatore di prima macchina, assistente, operatore alla macchina e alla fine sono diventato autore della fotografia come vogliono oggi e si dica all'AIC e mi sembra anche giusto, riprendendo il cinematografero americano.